Sosta gratuita a partire dalle ore 18.30 di tutti i giorni e questa è la principale novità che sta per diventare realtà a Cesena. Oggi infatti la Giunta Comunale Cesenate ha approvato la delibera contenente i provvedimenti annunciati poco prima di Natale facenti parte del cosiddetto pacchetto per il sostegno del centro storico. A questo punto non resta altro che attendere l'attuazione pratica del provvedimento. Entro la fine di gennaio, ha precisato il sindaco Paolo Lucchi, saranno adeguati ai nuovi orari tutti i parcometri e la segnaletica delle aree di sosta su strada e allo stesso tempo verrà iniziata la realizzazione, come previsto sempre dal piano, del terzo parcheggio scambiatore di Cesena che sorgerà nei pressi del cimitero urbano a Ponti Abbadesse. Qui verrà realizzata anche una nuova fermata autobus. Il quadro dei provvedimenti prevede di installare nel giro di pochi mesi in tutti e tre i parcheggi scambiatori, bigliettatrici automatiche che rilasceranno i titoli di viaggio al costo simbolico di 10 centesimi. Anche la formula parcheggio gratuito più bus navetta resterà la stessa. Il biglietto, obliterato con la data del giorno di acquisto, sarà valido per l'intera giornata. Queste modifiche al piano di sosta di Cesena rientrano in un ventaglio più ampio di interventi tesi a favorire i cittadini e gli operatori economici del centro storico, che dovrebbero ottrare sensibili benefici dalla gratuità della sosta dalle 18.30, data la comprovata tendenza dei consumatori cesenati a ricercare una maggiore disponibilità commerciale proprio dal tardo pomeriggio alla prima serata.